Oggi 18 giugno giornata mondiale dell'enogastronomia sostenibile, come detto questa è una puntata particolarmente dedicata al mondo del cibo e come ogni martedì abbiamo il piacere di ritrovare nei nostri studi il nutrizionista, lo specialista in scienza dell'alimentazione, dottor Salvatore Cusenza. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Grazie per la disponibilità a venire a parlare ogni settimana di cibo e di alimentazione perché, come dice la nostra sigla, la salute vi è mangiando. Dunque la salute vi è mangiando, ce lo insegna il nostro dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione, ma partiamo come... si parte ogni mattina dalla colazione. Ecco, dottore, come possiamo imbandire la nostra tavola per partire con il piede giusto ogni giorno? Intanto, buongiorno di nuovo a tutti. La colazione è il pasto più importante della giornata e sicuramente non è meno importante del pranzo e della cena. Quello che si fa spesso e che si usa a fare in Italia è un approccio alimentare alla mattina abbastanza sbagliato perché dopo 12, 13, 14 ore di digiuno, dalla cena al mattino, iniziare una colazione con grossi carichi di carboidrati, fette biscottate, quindi cibi ad alto indice glicemico. Cos'è l'indice glicemico? È la capacità di un alimento di alzare la glicemia. Più questa glicemia sale, più insulina viene prodotta e più si tende a accumulare grasso, più vengono veicolati questi carboidrati, trasformati in grassi e accumulati. Quindi queste repentine oscillazioni al mattino dopo tanti ore di digiuno non vanno bene. Quindi fare una colazione a basso IG con qualche carico, con qualche grammo di proteine in più non è sbagliato. Ad esempio gli inglesi da questo punto di vista fanno una colazione migliore della nostra. Poi sbagliano durante il pranzo e la cena probabilmente o anche gli americani, però la colazione all'italiana non è proprio il massimo, quindi il cornetto, le fette biscottate, i biscotti, perché dopo un'ora, stranamente, ma non è strano, si ha di nuovo fame. Perché come sale la glicemia così scende per l'eccessiva produzione di insulina e quindi subito si ha di nuovo fame. Dunque che cosa possiamo mangiare la mattina per una colazione più sana? Beh, se uno ha tempo l'ideale sarebbe fare anche la colazione salata, delle uova strapazzate, con un po' di bacon pure. Qualcuno mi potrà dire, ma dei grassi, ho capito, ma verranno consumati, a meno che uno poi non ha problemi grossi di colesterolo e altri ricerdi. Oppure uno yogurt greco, quindi uno yogurt sì, ma quindi con fermenti, grassi giusti, ma una quota proteica maggiore. Io personalmente a 30 anni faccio colazione con le seroproteine, quindi una bevanda vegetale ci metto 25-30 grammi di proteine del sero del latte, ma saranno da ben 7-28 anni che faccio colazione così. Perché mi sa, anzi, mi fa stare bene fino a pranzo. Come assumi queste proteine? In polvere. Le compro in farmacia, le scecaro nel latte. Non sto dicendo che questa è la cosa migliore, però io lo faccio da 30 anni, mi trovo benissimo. Sono le proteine più nobili che esistono, quindi viene presa come punto di riferimento per le altre proteine. La seroproteina a un bollo recente, tutto il resto viene confrontato come punto di riferimento con questa. Ma anche fare colazione, ad esempio, con ricotta e un po' di noci, un cucchione di miele potrebbe essere una buona colazione proteica, con un po' di grassi e con meno carboidrati. Quindi qualcosa che sazia, perché purtroppo il latte biscotti, il latte il cornetto è buono, ma deve essere un lusso, una volta a settimana, in vacanza, ma non può essere la colazione giornaliera. Infatti poi osserviamo come la percentuale maggiore di sovrappeso obese li troviamo in Italia, in Grecia. I paesi più sono del sud d'Europa, più tendono ad avere paesi eccessivi. Più sono del nord d'Europa, dove la colazione è più proteica, più tendente verso il salato e meno hanno problemi di sovrappeso e obesità. Abbiamo detto spesso da questo studio, chiacchierando con te, lo stavi accennando anche tu, poi è ovvio che ogni stile alimentare deve essere particolarmente adattato, calibrato su ogni persona, con le sue specificità, il suo stile di vita, magari anche l'età anagrafica. Ecco, per esempio, da questo punto di vista c'è differenza nell'approccio alla colazione tra adulti e bambini o valgono le riflessioni che hai appena fatto? Beh, quello che ho detto ovviamente è da linee generali, poi bisogna tener conto anche di chi si ha di fronte. Sicuramente abituare il bambino, dargli delle regole e non farlo solo nutrire di latte e biscotti non è sbagliato, quindi cambiare la colazione, fargli capire che anche una colazione salata o con lo yogurt greco o con qualcosa di più proteico, più sostanzioso non è sbagliato e non sempre la merendina, i biscotti, fette biscottate, cereali di mais che sono ad altissimi entici glicemico, quindi come ripetevo prima, alza solo la glicemia e dopo mezz'ora il bambino ha due uomo fame. Quindi evitare queste grosse oscillazioni di glicemia e di conseguenza di produzione di insulina. Quindi insegnare al bambino che la colazione può essere anche fatta salata, con le uova, con lo yogurt non è sbagliato. Molto bene, è importante quello che hai appena detto perché stiamo scoprendo come lo zucchero sia un alimento che va preso davvero a piccole, piccolissime ma tutto ciò che è bianco, lo zucchero, il sale bisogna saperli utilizzare. Lo zucchero purtroppo è stato usato a quintali, a tonnellate, adesso ci stiamo rendendo conto che tende a creare il carboidrato in generale un'infiammazione sistemica del corpo, quindi ridurre questi carichi di carboidrati e soprattutto di zucchero non è sbagliato. Molto bene. Prima di salutarci volevo chiederti un'altra cosa, tra l'altro vedevo che nel nostro schermo compariva anche la tua mail, per cui quanti ci seguono possono scrivere una mail al dottor Salvatore Cusenza, eccola qui, dottor mi raccomando poi controlla la mail e risponde. Controllo sempre perché è l'unica mail che ho, quindi so perfettamente chi scrive e chi non scrive. Molto bene. Dicevo, in questo periodo in particolare con l'arrivo dei primi caldi utilizziamo anche integratori, no? Magnesio, potassio, eccetera. Gli integratori a tuo avviso vanno presi nella prima parte della giornata, quindi durante la colazione o subito dopo o si possono assumere anche nel corso della giornata? Si possono prendere e assumere nell'arco della giornata, però considerando che adesso inizia il caldo, fare una ricarica di magnesio e potassio sotto forma di citrate di magnesio e potassio perché hanno un miglior assorbimento, vanno a basificare la gita del corpo, evitano una formazione di calcoli, renele e quant'altro, presa al mattino dando una carica in più e se ce ne fosse la necessità, prendere un'altra dose nel pomeriggio, al pomeriggio. Quindi idratarsi e bere integratori di magnesio, citrate di magnesio e potassio. Bene, direi che anche per questa settimana abbiamo messo il puntino sulla I, ci stiamo, ecco, grazie alla tua preziosa presenza in questi studi, ci stiamo educando ad una corretta alimentazione perché come dice il titolo di questa rubrica, la salute viene mangiando, però accanto alla salute, come spesso ci ricordi tu, dobbiamo fare anche un po' di attività fisica. Ebbè, muoversi non ha mai fatto male a nessuno. La virtù sta nel mezzo, quindi l'eccessivo sport, l'eccessivo lavoro fa male perché porta al lavoramento. La quantità giusta di lavoro e di attività fisica, 3, 4, 5 ore a settimana, non può che far bene. Tornando da primo, volevo dire che la colazione dolce ogni tanto si fa, deve essere anche quella un piacere, non deve essere una normalità. Quando la si fa poi si vede come proprio aumenta il gusto, il piacere di farla, perché è un lusso, non fare sempre cappuccino e cornetto. Anche a me viene in mente un'altra considerazione e vediamo se dico una cosa giusta oppure no, utilizzare magari il miele al posto dello zucchero raffinato. E' meglio come proprietà, sicuramente contiene degli oligoelementi, dei microelementi, contiene fruttosio ed è superiore qualitativamente allo zucchero semplice. Molto bene. Allora, sperando di aver reso un buon servizio anche questa settimana, vi invitiamo a continuare a seguirci, a seguirci durante il martedì con la rubrica La Salute Viene Mangiando. Caro dottore, io ti auguro un buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Sì, adesso si va a lavorare e auguro a tutti una buona giornata. Per chi può andare a mare, andasse al mare. Che non fa mai male. Che non fa mai male. Molto bene, grazie ancora. Appuntamento allora a martedì prossimo, linea alla regia. Grazie.